Sarà l'autopsia i cui esiti si conosceranno nelle prossime ore a dare una svolta alle indagini sulla morte di Giovanni Di Martino, il meccanico in pensione di 73 anni di Silvi, deceduto all'ospedale di Atri in seguito alle ferite riportate durante una colluttazione con il figlio Giuseppe, architetto 45enne, intervenuto per difendere la madre durante una lite fra i genitori nella loro casa. Giuseppe Di Martino resta intanto in stato di fermo presso la casa circondariale di Castronio a Teramo con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Difficile dare una spiegazione anche medica a quanto accaduto giovedì notte. Spesso accade che nelle famiglie quando ci sono questi litigi il figlio arriva in soccorso della madre che spesso è il genitore che soccombe. Guardi, ogni situazione a sé e non si può mai giudicare la sofferenza degli individui. Bisogna piuttosto capire quali sono stati i percorsi e noi lasciamo questo ad organi competenti. Per quello che riguarda me in quanto specialista della salute mentale o le mie colleghe che qui nel centro di salute mentale di Atri lavorano in modo indefesso a sostegno delle persone di questo territorio possiamo solo dire che esistono dei modi per superare la crisi come vi ho già anticipato e delle possibilità per capire e non agire in modo ostintuale. Edgar ci ricordava nelle sue lezioni a Tubinga che è importante sempre in qualche modo controllare l'istintualità, prevenire comportamenti a nocumento di terze persone e soprattutto di se stessi. Non si può parlare però in questo caso di raptus? I raptus esistono, esistono le premeditazioni, esiste un po' tutto nel mondo. Questa è la storia dell'uomo, la storia delle persone che noi conosciamo, ma ripeto ogni storia è a sé e quindi lascio a voi delle riflessioni, forse quella più importante è proprio riflettere che cosa è oggi la famiglia. Per me è un nucleo fondante ed è questo che io cerco di traslare e trasmettere nella mia pratica quotidiana. Grazie. Grazie. Grazie.